Ed eccoci con Mr. Javorcic a commentare una partita che ha avuto più faccia in realtà nel suo corso, però complessivamente forse ha tirato fuori un risultato abbastanza giusto. Sì, sono d'accordo, sicuramente meglio Arezzo nel primo tempo, ci ha messo in difficoltà perché ha molta qualità, velocità e anche imprevedibilità da centrocampo in su. Ma voi avete un ottimo fisico dei vostri calciatori per cui alla fine una squadra più tecnica, una squadra più fisica si sono sostanzialmente... Sono d'accordo perché ognuno di noi ha tirato fuori quello che ha in questo momento qua, noi arrivavamo da un periodo magari un po' negativo, quindi qualche scoria ce l'avevamo e anche lo stesso Arezzo a livello di risultati, ma io ho visto due squadre da playoff e quindi complimenti a loro e a noi. Nel finale avete rischiato di perderla? Anche di vincerla, quindi siamo pari. Sì, questo è abbastanza vero, ma proprio nel finale... Sì, noi siamo una squadra che ha perso nelle ultime quattro partite quasi sempre all'ultimo minuto e sempre da questa situazione, quindi qualche fantasma sicuramente l'abbiamo visto, ma una squadra ci deve passare anche su queste cose qua. Va bene così. Una domanda da TV Aretina, chi ha visto meglio nell'Arezzo? Ma io ho visto una bella squadra, una squadra che ha qualità, che ha delle ottime caratteristiche, ottimi giovani, che gioca un buon calcio e sicuramente è una squadra che può dare fastidio a tutte nel playoff. Bene, grazie per la disponibilità.